Mi chiamo Gaetano Capostela, sono nato da Vellino alla Ferrovia, vicino alla isochimica, tanto per essere così più precise. Gaetano Capostela, per chi ha avuto il piacere di conoscerlo e seguirlo nel suo intenso percorso di imprenditore, era l'uomo delle grandi sfide, l'amico geniale che affrontava visto aperto il tempo attraverso la longevità delle sue creazioni, che nonostante una figura sua all'apparenza severa, ti faceva vivere da protagonista con gli occhi pieni di futuro e toccare con mano fino allo stupore, fino a farti vivere il suo mondo costruito su solide basi, quelle della professionalità e della passione, doti e animate anche dal senso del riscatto e dell'orgoglio della terra del sud. Capostela, infatti, come sottolinea Nicola Zinzi, nella sua pagina condivisa con Del Gaudio, è sempre stato un fiero difensore delle potenzialità del sud. Il suo sogno era quello di vedere i giovani del territorio, credere nelle opportunità della terra erpina, dove purtroppo lo spopolamento e la fuga dei cervelli è ancora una drammatica realtà. Negli anni Ottanta il maglificio Capostela, fondata dai suoi genitori a Reggio Emilia negli anni Sessanta, era diventato il miracolo del Made in Italy, delle aree interne. Da Avellino l'impresa che griffava maglie per i più grandi nomi del jet set nazionale, così come le divise dell'Alitalia volavano con il marchio del nome dell'imprenditore ilpino, un modello di produzione che riuscì a compiere una piccola rivoluzione, in un ambiente da sempre soggiogato dalle potenze e il fascino del nord. Gaetano aveva addosso ben cucito il vestito della legalità e della giustizia, e per questo è stato uno dei fondatori di SOS Impresa, l'associazione anti-racket. Con coraggio e determinazione ha sempre denunciato il malaffare, invitando anche gli altri imprenditori a farlo. Anche nel buio dell'omertà la sua voce tonava contro il clan, surai e camorristi che ancora si nutrono del sangue dei lavoratori onesti. Anche questa è una grande sfida, tra silenzio e muri di gomma, che continua grazie all'impegno del figlio Domenico. D'altronde nemmeno il terremoto riuscì a fermare lo spirito battagliero innovativo di Capossela, che dopo la mala notte, nonostante una fisiologica flessione dell'azienda, ebbe anche l'intuizione di brevettare l'invenzione di un motore ecologico. E in effetti diciamo che ho incominciato a immaginare un motore diverso quando andavo a scuola, negli ultimi anni di sono periodo meccanico, quindi mi resi conto che i motori endotermici avevano un rendimento del 20-25%, quindi troppo basso rispetto al consumo che invece generavano. Il timone dell'azienda è ora nelle mani ben salde dei tre figli, Domenico, Davide ed Elisabetta, che hanno ereditato lo spirito e la passione del messiere e del padre, l'attività di produzione della maglieria va avanti a Torretti di Mercogliano, così come la realizzazione di accessori per l'industria della confezione. Il maglificio fila ancora, così come la voglia di giustizia, che come nel motore ecologico inventato da Capossela alla linfa dell'asvolta, anche questa Gaetano, una sfida vinta a testa alta. Ringrazio voi, ringrazio tutti coloro che hanno così, avranno il piacere di sentirci, e mi auguro veramente che questo possa essere stimolo per tanti giovani a credere nella nostra società, nella nostra terra.